Il campionato della Lega Italiana Vela 2016, seconda prova di selezione, siamo a Porto Cervo in questo splendido scenario, in questo club dove si sono avvicendati i migliori velisti del mondo. Beh, ci siamo anche noi. D'app di selezione particolarmente interessante. Sono scese in acqua le forze armate. La marina militare e l'aeronautica militare hanno aderito alla Lega Italiana Vela e partecipano a questa selezione con i loro migliori atleti. Inoltre lo Yacht Club Costa Smeralda ha schierato un equipaggio tutto femminile e questa è la prima volta che si verifica nel nostro campionato. Beh, come vedete sta diventando sempre più bello, sempre più interessante, sempre più agguerrito. Domani in acqua, a mezzogiorno. A domani! Domani in acqua